Oggi vostro news ci porta a Londra! Siamo Southampton, tra il museo della storia naturale e il museo della scienza. Il museo della scienza è stato aperto a fine ottocento, mettiamo insieme! Questa è la Ford Modello T inventata da Air Ford nel 1908. È stata la prima vettura prodotta in serie utilizzando la tecnica della capina di montaggio. L'avviamento è raffidato ad una manovrella classica, mentre quello elettrico è stato introdotto nel 1919. Questa autovettura ha aggiunto 72 km orari e ha un consumo di 1 litro ogni 11 km. Questa è la capsula dell'Apollo 10 utilizzata nel maggio del 1969. In questa missione sono state provate le manovre di discesa e salita sulla luna, utilizzate poi per la missione dell'Apollo 11. Questa è la rivoluzione del mondo naturale e utilizzate nella missione dell'Apollo 11. Una scaletta come questa toccano per la prima volta la luna i due astronauti, Armstrong e Oltri. La macchina analitica è il primo prototipo e un computer meccanico. È stato inventato da Charles Buffett nel 1834. Vieneva programmata usando delle schede perforate. Questo è il motore a vapore, aiutato da Eric Rosley del 1845. La nave Titanic per garantire tutte le funzioni di bordo, la navigazione e la leva dual. Grazie a tutti per averci seguito. Allora, piccati e iscriviti, è tutto. Bravo!